E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete detto dal titolo andremo a illustrarvi come rendere eroico e come completare l'evento eroico della Creo Capsula sulla Riva Contorta Per chi non avesse ancora intrapreso questo evento questo sarà molto semplice e sarà strutturato nel seguente modo Vedremo una Creo Capsula della Pregione degli Anziani atterrare in una certa zona A questo punto dovremo sconfiggere due ondate di nemici che saranno veramente molto facili da buttare giù Uccisi questi la Creo Capsula si aprirà e dal suo interno uscirà un boss Per rendere l'evento eroico non dovremmo uccidere il boss Infatti dopo un po' che gli faremo danno leggeremo in basso che la Creo Capsula emette un gas congelante Questo gas congelante renderà il pavimento della zona nocivo e vedremo che da due delle quattro ventole posizionate due a destra e due a sinistra della Creo Capsula uscirà un fumo Molto semplicemente dovremo sparare a questa ventola affinché non si aprirà Una volta aperta ci rivelerà una carica d'arco Questa andrà o lanciata contro il boss o più semplicemente lanciata all'interno della Creo Capsula Una volta che avremo lanciato tre di queste sferre d'arco all'interno della Creo Capsula o addosso al boss Questo verrà congelato e si firmerà in un punto attorno al quale comparirà una zona di trasferimento del Trasmat Molto semplicemente dovremo stare all'interno di questa e conquistarla prima dello scadere del tempo Le ventole sono però quattro invece che tre Questo perché lanciando anche la quarta all'interno della Capsula il pavimento smetterà immediatamente di farci danno Altrimenti dovremo aspettare parecchio e sarà abbastanza fastidioso considerando che dobbiamo rimanere all'interno della zona Inoltre in caso non riuscissi ad aprire tutte le ventole alla prima botta Non preoccupatevi perché dopo un po' la Capsula ricomincerà a emettere questo gas E potrete aprire le ventole che vi rimangono Detto questo ragazzi io spero che il video vi sia stato utile Mi raccomando oggi pomeriggio non perdete i primi tre episodi del World Crude 3 rinnegati E detto questo ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao